ciao dunque innanzitutto buona giornata a tutti e dunque l'argomento un po spinoso nel senso che potrei tirarmi l'odio di molte mamme però io ho sempre pensato questo come dicevo mio amico è molto meglio avere dei maiali che avere dei figli che non vuoi perché con il maiale lo puoi uccidere non è reato e i salami sono poi buoni da mangiare il figlio meglio non ucciderlo perché insomma la polizia verrà chiamata e ci sono vari anni di prigione da fare e alcune conseguenze diciamo con questo volevo parlare di una tale chiara chiara paradisi e non volevo criticarla semplicemente dico soltanto il fatto che io non la capisco come persona cioè come personaggio diciamo su youtube una cosa che non capisco perché deve sempre parlare di sua figlia e perché molte volte la deve anche mostrare eccetera cioè io sono un figlio un figlio molto difficile cioè sono sempre stato un carattere molto molto difficile e sono sempre stato un carattere anche piuttosto riservato quindi se mi fossi accorta che mia mamma mi mostrava come un trofeo avrei chiesto dall'alto di essere tre anni di aver tre anni ma mamma ma perché cazzo mi mostri come se fossi il tuo trionfo di guerra cioè sono un trofeo hai vinto qualche gara fammi capire no sono un essere umano a cui non piacciono i riflettori perché ai tempi ero molto molto riservato cioè ci sono sempre state delle cose su cui sottoscritta una sorta di riccio incazzoso anche perché se mi viene a toccare poi dopo ti lascio gli aculei no nel senso ma io veramente ogni tanto gli dico ma povera bambina se al mio carattere ti detesterà dopo i quattro anni penso che inizierà proprio a non so a preparare i coltelli no vicino alla tua testa intanto che dormi no per mandarti un messaggio così non molto diretto questo è proprio una cosa ma ma perché lo fai chiara parliamoci infatti c'era poi stato mister nichilista che aveva detto qualcosa sulle bambole reborn mister nichilista è bravissimo come youtuber secondo me uno dei migliori e soprattutto in questo video dato secondo me è il meglio di sé infatti aveva detto è molto meglio molto molto meglio una bambola di queste bambole reborn piuttosto che avere un figlio che insomma poi alla fine non lo ami perché comunque molti genitori fanno fanno proprio schifo l'unica cosa che ho fatto di buono finora è non avere figli perché assolutamente non avevo la maturità per per farli e ancora adesso cioè farei una madre demente quindi io non lo so se qualcuno riesce a avere la maturità a 18 anni di avere un figlio per come ero io assolutamente no assolutamente no sarebbe stato uno sfacero ma poi io sono disordinata sono un pasticciona cioè quando sono stanca lascio le cose in giro io non voglio dire che sarei come madre migliore di chiara paradisi però dico solo questo secondo me secondo me certe cose non vanno mostrate come trofei sono degli esseri umani che prima o poi avranno una certa indipendenza di pensiero si spera che quando si vedranno così mostrati come il trofeo da dalla propria mamma 16 anni o 18 anni inizieranno chiedersi a farsi delle domande ecco io fossi bambini inizierei a bestemmiare perché sono sempre stato un tipo ma molto riservato ma anche in altri in altri campi nel senso che non ho mai capito questa moda proprio diffusa tra gli uomini italiani all'estero mi sembra un pochino più riservati non lo so del tipo che se una ragazza si dice si decide di concedere a questi uomini con un ego esagerato dopo un po di tempo diciamo che la notizia viene pubblicata su tutti i maggiori media nazionali dunque ma io se decido di concedermi a qualcuno visto che sono una donnaccia come ha detto il mio hater decido di concedermi a lui non pensavo di aver fatto un film porno a mia insaputa e soprattutto io voglio i diritti voglio i soldi per il film porno ecco questo sono cose che volevo dire da un sacco di tempo e sono uscite fuori proprio niente io vi lascio con queste riflessioni e odiate mi amatevi me ne frego un cazzo ho fatto sapere come la pensavo e mi sento molto ma molto meglio adesso bacioni a tutti